Utilizza la tua tecnica per portarti in uno stato di coscienza rilassato. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Invoca la fiamma viola dalla sua fonte primaria per posizionare un cerchio di protezione intorno a te durante e dopo la meditazione. www.mesmerism.info Chiedili di trasmutare tutto ciò che non serve alla luce. www.mesmerism.info Visualizza la sfera del fiore della vita, color arcobaleno, intorno alla terra, che si espande al di sotto della superficie e si espande anche fino all'orbita della luna. www.mesmerism.info Visualizza la sfera del fiore della vita, che assiste al processo di liberazione planetaria, eliminando tutta l'oscurità dalla superficie del pianeta. www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visualizza la sfera del fiore della vita creare armonia, protezione e pace per l'umanità e tutti gli esseri viventi, specialmente coloro che detengono la luce per il pianeta. Grazie a tutti. 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 Visualizza la sfera del fiore della vita che manifesta armonia e la linea temporale dell'ascensione più positiva per tutti gli esseri viventi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.